Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Iniziamo questa settimana con l'analisi dei mercati finanziari. Oggi faremo un'analisi sulle coin come Ethereum e Bitcoin, ma guarderemo anche la coin CRO che non guardiamo da un po' di tempo. Vi farò vedere come sta ricercando una sua nuova fase di ripresa nei confronti proprio di Bitcoin e poi andremo a dare un'occhiata a due delle altcoin che ho inserito nel portafoglio MorseRace che è stato un portafoglio che ho creato pochissimi giorni fa, condiviso con voi nei miei video del canale YouTube presente chiaramente nella mia Trading On Academy. Due di queste criptovalute le guardiamo oggi perché stanno all'80% di rendimento. Intanto vi dico che ancora oggi sono fuori quindi non mi vedete in face, quindi face off anche oggi per il video del lunedì ma quello che conta comunque resta il grafico ragazzi perché Bitcoin ancora una volta non è riuscito a sfondare la resistenza a un 12.100 a livello settimanale. Fa il break nella scorsa settimana in una giornata, la vedete qui, vi faccio ingrandire il grafico, vedete che lo scorso 17 fa il break, rompe ma il 18 viene negato, quindi fake break, ma ormai lo sapevate in maniera chiara che il break deve avvenire dal punto di vista settimanale è una resistenza troppo importante per non aspettare una conferma di natura settimanale. Conferma di natura settimanale ragazzi che già vi dico qualora dovesse avvenire spingerebbe probabilmente Bitcoin a prezzi estremamente più elevati di 12.100 quindi non vi aspettate in nessun modo la possibilità di poter entrare alla close settimanale su un movimento long di Bitcoin in breakout di questa resistenza. Ve lo dico in maniera chiara perché qualora avvenisse sarebbe solo e esclusivamente un puro colpo di fortuna perché i mercati quando sono di fronte a resistenze del genere, se c'è il sentore di un breakout confermato in settimanale iniziano ad accelerare prima della chiusura della settimana. Quindi questo è il mio punto di vista, la mia opinione solitamente funziona così. Puntatina longa sul mercato in questo caso dovete farlo prima ed entrare utilizzando delle tecniche di trading perché è impossibile assumere una posizione a un breakout di una resistenza di questo tipo a prezzi diciamo convenienti perché probabilmente se lo fa il mercato si sposterà intorno ai 13.000 come se niente fosse quindi poi andiamo quindi a sobbarcarci un prezzo di ingresso estremamente più elevato. Potrebbe essere quindi questa fase che vediamo in questo momento, quindi questa fase qui una fase di possibile ingresso longa. Allora ragazzi ci sono due view differenti, ieri ho condiviso in Academy come sempre la mia view su quello che stava succedendo e anche questo possibile rimbalzo. Rimbalzino che tra l'altro credo che alcuni dei miei iscritti abbiano anche tradato e stiano facendo profitto perché io non l'ho fatto ragazzi però magari chi in questo momento può stare davanti ai grafici può utilizzare anche questi brevi pump and dump per fare delle operazioni intraday estremamente profittevoli. Intanto ragazzi come sempre vi lascio il link della mia Academy in descrizione si stanno registrando in tantissimi in questa fase sono molto contento trovate il link in descrizione siamo un gruppo di matti così potremmo descriverci però è veramente un gruppo che mi sta a cuore anche perché si fanno veramente tanti esperimenti adesso c'è anche gli esperimenti che sono stati creati sulle coin della DeFi veramente tanta formazione, tanta qualità in questo gruppo non solo grazie a me ragazzi ma anche e soprattutto agli iscritti perché sono gli iscritti stessi che danno un contenuto veramente di grande grande livello quindi sono veramente contento della piega che sta prendendo in queste ultime settimane la mia Academy veramente veramente contento e ci saranno grandi in unità anche a settembre con una serie di servizi estremamente più importanti anche rivolti a chi magari ha poca esperienza nel settore ma andiamo avanti allora ragazzi questo movimento cos'è? è il movimento centrale di un rimbalzo dovuto al ciclo da 22 giorni che è iniziato lo scorso 12 di agosto vedete ragazzi allora vi faccio un disegnino insomma in maniera molto chiara questo è il ciclo in questione ora ragazzi che questo ciclo partito intorno a questa data potesse andare a fare il break dei 12.100 ve lo avevo già accennato anzi era auspicabile che lo facesse ora siamo nel famoso punto di non ritorno così se possiamo definire tra virgolette ragazzi non c'è una fase di pericolo secondo me in questo momento però questo primo break all'interno di questo ciclo ci stava tutto ragazzi ma è anche vero che potrebbe essere più importante in questo secondo ciclo e qui abbiamo le famose due view che come sempre andiamo ad analizzare perché se questo break non verrà superato da questo movimento rialzista che vedete in questo momento quindi se facciamo un rialzo che sta sotto questo massimo e sarà qui per esempio non riuscirà ad andare è possibile un ribasso alla fine di questo ciclo un po' più rilevante rispetto a quelli che abbiamo visto precedentemente perché vedete questo ribasso è stato comunque ampio perché siamo andati da 12.500 a circa 11.400 quindi quasi il 10% ragazzi un po' meno l'8 di ribasso quindi un movimento che comunque è stato un po' più rilevante rispetto al solito se questa fase di ripresa che è normale che avvenga ragazzi non va a intaccare questo livello di massimo allora lì dobbiamo iniziare ad avere un po' diciamo così di maggiore preoccupazione perché il mercato potrebbe andare a disegnare un ciclo di natura anche ribassista dico anche perché adesso aggiungo un'altra informazione ribassista sarebbe così quando avviene questa fase di chiusura ciclica secondo la teoria dovrebbe essere intorno ai primi giorni di settembre quindi verso settembre un ciclo di questo tipo sarebbe assolutamente normale ragazzi niente di anomalo e soprattutto non va a intaccare in nessun modo quello che è il trend di medio periodo in questo caso perché ragazzi il trend di breve e di medio periodo di bitcoin è rialzista quindi quando parliamo di una fase di storno di una fase di chiusura di un ciclo dovete ricordarvi che non è una fase che spinge tantissimo può spingere un po' di più ma non come le fasi long come vedete qui per esempio la fase long ha spinto notevolmente di più della fase short di chiusura del ciclo quindi è vero qui abbiamo avuto un trading range niente di che qui potrebbe essere o una fase in questo modo quindi che va sopra i percenti massimi fa il break e poi chiude così questa è ancora possibile in questo momento ragazzi ancora è possibile perché sancirebbe un semplice ciclo ancora rialzista ancora forte con un massimo fatto nella seconda parte del ciclo appunto qui dove eravamo prima ragazzi se invece il massimo è stato già fatto bitcoin potrebbe disegnare due forme cicliche questa un po' laterale e poi anche la pericolosissima quella ribassista ci sta sempre ragazzi anche se io in questo momento sono positivo sui mercati criptovalute quindi tendo sempre a dire che la parte ribassista potrebbe essere un po' inferiore la fase di pericolo di questo momento rialzista dovremmo averla quando quando il mercato farà un ritracciamento da teoria diciamo di fiboracci dai adesso la diciamo tutta vediamo se trovo il per farvi il disegno per farvi vedere chiaramente il disegno mi perdo sempre ok nella fase diciamo dovessimo fare come ritracciamento di fibonacci potremmo arrivare come sempre io disegno sempre al contrario e adesso la dobbiamo rifare ok allora ragazzi vedete questa fase potrebbe terminare intorno a un rimbalzo intorno ai 11.900 12.100 quella diventa una fase di pericolo ci siamo già perché siamo a 11.800 e 29 ragazzi quindi intorno a questa fase e poi che qui parliamoci chiaro insomma ragazzi il mercato deve prendere una direzione o va su spacca e sale oppure torna in cross ciclica quindi fase solo per i trader questa molto meno per gli holder ma andiamo a vedere anche la chart di ethereum perché vi avevo promesso anche la chart di ethereum oggi quindi quindi andiamolo a guardare perché anche ethereum sta facendo un disegno molto simile a bitcoin però lo guardiamo con dei cicli che sono più lunghi come sempre facciamo su ethereum per avere più spazio di manovra ragazzi questo ciclo su ethereum se dovesse essere confermato porterebbe una fase di ribasso fino a fine mese di settembre quindi primi di ottobre e quindi stiamo spostandoci l'attenzione vedete questa è la fase di ethereum che poi dovrebbe andare a fare così questa cosa è possibile rispetto ai tempi che nei precedenti cicli il mercato sta disegnando da un po' e quindi insomma in questa fase potremmo decidere di accettare la view di bitcoin che abbiamo appena visto o la view di ethereum anche seconda di quello che farà il prezzo quindi se bitcoin non ce la fa potrebbe lateralizzare quindi poi fino a fine mese però ragazzi io questa view su ethereum ve la volevo indicare perché porta una famosa view ternaria con il ciclo centrale quindi la metà con un massimo e poi una fase del genere quindi in questa view se dovesse essere confermata c'è un'alternativa di fase di bassista o laterale secondo me più laterale fino a fine mese addirittura di settembre quindi però ethereum può fare ancora un nuovo massimo sì ragazzi ancora una volta perché può fare semplicemente così fino alla famosa resistenza e poi chiudere il ciclo quindi ricordatevi che trend is your friend oggi non mi vedete con la mia solita maglia però questo è fondamentale ricordarlo al di là delle fasi cicliche non andate contro trend questo è fondamentale in queste fasi di diciamo ribasso potete fare degli short se siete dei trader se fate intraday se state su l'onda ragazzi cavalcate l'onda allora si può fare però ricordatevi che il trend in questione è questo ragazzi è rialzista non andate contro trend soprattutto nei mercati cripto e soprattutto quando il trend è long va bene andiamo adesso a vedere invece il CRO mi piaceva molto farvelo vedere per farvi vedere in movimento che il CRO sta disegnando su bitcoin a parte lo spike avvenuto qualche giorno fa perché è bello ragazzi perché vi fa capire come per esempio uno strumento dopo una fase di trading range laterale anche ribassista vedete che ha fatto il CRO perché il CRO ha avuto anche quella fase un pochettino particolare dovuta alla swap tra CRO ed MCO vedete adesso sembra sia orientato ad una fase di ripresa del trend ricordiamo che anche precedentemente aveva avuto delle fasi vedete su bitcoin notevoli fatte anche di laterale insomma come queste qui ma poi ha ripreso un nuovo trend magari delineandolo addirittura in maniera estremamente importante ma come sempre quando assumo una posizione long allora io sono ancora long su CRO ma una parte l'ho disinvestita quando è avvenuto lo swap sono ancora in attesa di rientrare magari in full totalmente full su questo a crypto non vi nascondo che forse non ci rientrerò più totalmente full per via del fatto che mi sposterò su altri tipi di investimenti però sono ancora indeciso perché comunque l'earn di crypto.com resta sempre un grandissimo e importantissimo risultato e poi mi piacciono molto questi trend ragazzi molti di voi dicono di stare attenti questa coin non si sa dove potrà andare è uno scam non è uno scam le solite informazioni ragazzi ma seguiamo anche i prezzi perché finora non ha dato grandi segnali anzi non fa grandi pump non fa grandi dump dal tal insomma da indicare un possibile scam e poi io la crypto.com ragazzi la uso tutti i giorni per i miei pagamenti anzi vi lascio il link in descrizione se volete utilizzarla con lo sconto dei 50 dollari perché richiedere questa carta secondo me per chi opera nel settore crypto è assolutamente un must non potete non avere la carta crypto.com ragazzi perché funziona da dio allora vi lascio il link in descrizione ci sono anche 50 dollari free per chi richiede le carte quella con il cashback alto andiamo quindi ragazzi in questo momento vedete l'atteggiamento giusto per concludere analisi e tecnica di ripresa del trend sul CRO quindi dategli un'occhiata ok tenetelo sempre a vista andiamo poi invece a vedere qualche coin che vi avevo indicato del mio crypto horse race che era un portafoglio che ho condiviso con voi in accademi sempre presente lo analizziamo di continuo in particolare ragazzi due sono le coin veramente fighe che abbiamo così che ci hanno fatto fare grandi grandi gain e sono BAT quindi basic tension token che ha fatto un grande rialzo e mi ha sfondato anche questi massimi che vedete qui e siamo entrati long adesso ha davanti a sé una super resistenza che è questa del precedente massimo di aprile direi del ciclo precedente ragazzi rotta una resistenza del genere potrebbe andare in bull run notevole tra le altre cose quindi questo token che noi abbiamo nel crypto horse race resta ancora all'interno perché l'idea e l'obiettivo del crypto horse race che abbiamo diciamo creato in academy è quella di prendere proprio le coin che poi fanno un super bull run quindi non è solo per fare qualche profitto qui siamo oltre il 70% ragazzi di profitto ma è per prendere tutta la torta ragazzi fare qualcosa come abbiamo fatto con il link sul link abbiamo un profitto sul mio portafoglio di oltre 350% ragazzi quindi quello che interessa è fare questa cosa anche teta ve lo volevo indicare la stessa cosa ragazzi teta siamo in profitto di oltre 80% l'ho indicata in tempi non sospetti è intorno qui l'ingresso iniziale che abbiamo fatto sul crypto horse race trovate tutti i video ragazzi perché l'ho reso pubblico per tutto il canale youtube e siamo ancora una volta guardate un po' a questo spike di maggio secondo voi riuscirà a romperlo meno vedremo un po' fare i prossimi giorni trend tra l'altro molto deneato sul teta quindi si resta long anche qui bene ragazzi per oggi è tutto e ci sono una serie di novità ma il mercato delle crypto corre veramente tantissimo in questi giorni fatemi sapere anche secondo voi qualche coin tra le top 100 le top 200 che possiamo mettere sotto il radar ne ho già alcune che mi avete consigliato la scorsa settimana sotto il radar scrivetemene nei commenti se qualcuna è nella top 200 magari ecco ragazzi non andiamo proprio a prendere le minion può essere inserita sotto il nostro radar va bene ciao a tutti buon inizio settimana grazie a tutti